Si terranno il 5, il 6 e il 7 aprile, di fatto aprendo la nuova stagione turistica di Baia Domizia, le manifestazioni legate alla Kermess, l'altra Italia vite da premio, giunta alla dodicesima edizione organizzata dall'imprenditore Ghetano Cerrito e che si svolge sotto legida del Ministero della Cultura. Anche questa edizione si pone l'obiettivo di dare risalto e riconoscimento all'opera di quanti si battono e lavorano per assicurare al Sud e all'Italia intera dignità e credibilità, in particolare nei campi della ricerca scientifica, della solidarietà e dell'etica, della politica e delle istituzioni, della cultura, del turismo, dell'imprenditoria, dello sport, della comunicazione, del cinema e dello spettacolo. Ma ascoltiamo ai nostri microfoni il direttore artistico Ghetano Cerrito e Mari Licia Salvia, presidente del premio L'altra Italia. Il premio ha una storia veramente bellissima, infinita, ricca di grandi e prestigiosi nomi a livello nazionale ed internazionale, del mondo del cinema, della televisione, della cultura, dello spettacolo, dell'arte in generale, della scienza. E perché la scienza? Perché noi diciamo che prestiamo una particolare attenzione alla scienza perché io e tutti coloro che commongono la giuria ritengono che senza scienza non si vada da nessuna parte. È un tributo alla bellezza di Baia, lo considero così, e anche quasi un risarcimento alle troppe difficoltà in cui questa località si è dovuta dibattere per decenni. A condurre le serate saranno il regno dei vita e Magda Mancuso. Ascoltiamo ai nostri microfoni, quest'ultima. Io sono veramente felice quest'anno di essere la presentatrice, di essere stata scelta da Gaetano Cerrito che ringrazio infinitamente. Non sarò sola alla conduzione di questo premio ma bensì condividerò il palcoscenico con l'amico professionista e il regno dei vita.